Qualità? Zero. Gusto? Zero. Stile? Zero. Aroma? Zero. 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 Zero impatto di anidride carbonica. Da oggi, zero è sinonimo di eccellenza. Scopri il caffè Iconici Lavazza in capsule in alluminio compatibili con macchine Nespresso Original e a CO2 interamente compensata per contribuire all'obiettivo della Climate Action. Lavazza. L'eccellenza per un mondo migliore.